Siamo al 3.201. I pareri sono favorevoli. Nessuno interviene. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli. 355. Contrari. Nessuno. La Camera approva. Va bene. Allora metto in votazione. Se nessuno interviene, l'articolo 3. La votazione è aperta. Massa. Massa. Coppola. Coppola. Ci siamo? No, Coppola non riesce a votare. Eccolo. È andata. Bene. La votazione è chiusa. Favorevoli. 361. Contrari. Nessuno. La Camera approva. Allora siamo adesso al parere dell'articolo 4. Relatrice Grillo. Sì, articolo 4.200. La quinta Commissione. Parere favorevole. Va bene. Grazie. Chiedo al sottosegretario. Conforme il parere del Governo a quello della relatrice. Va bene. Allora siamo al 4.200. I pareri sono favorevoli. La votazione è aperta. Conforme il parere del Governo a quello della relatrice. Carra. Buon accorsi. Buon accorsi. Ci siamo? Airaudo. Va bene. La votazione è chiusa. Favorevoli. 364. Contrari. Nessuno. La Camera approva. Allora, metto in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta.